Scopri un nuovo modo di rilassarti colorando con Art Therapy. Una collezione di straordinarie illustrazioni, disegni originali e tantissimi colori per realizzare i tuoi capolavori. Libera la tua creatività, rilassati ed esprimi te stessa con Art Therapy. In edicola la prima uscita con disegni e matite colorate solo 99 centesimi. Ascette!